Ready, aim, fire! Buongiorno a tutti i miei nomi, benvenuti a questo nuovo video Per essere precisi, credo sia il giorno del mio compleanno, non so se uscirà in tempo Per il 17 febbraio, cioè oggi per voi o domani Per me sarà domani Infatti questo lo sto facendo il 16 sera dopo una festa Delirio Allora, prima cosa, cosa ho fatto lo scorso 17 bla 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 Passato febbraio, mi hanno fatto dei regali E come sempre a tutti i miei compleanni, unboxing dei regali Cioè, faccio vedere i miei regali Prima di tutto queste, che mi state sentendo con il nuovo audio delle Logitech 4 Arrivo Voi mi sentite ma non mi vedete, è una cosa fantastica E Logitech 430, una cosa Cioè, guardate Logitech 430 E io lo vedo alla rovescia, voi lo vedrete giusto Io tipo leggo 0, 3, 4, storto E G anche Sono molto buone, mi dicono Non so come sentirete Io lascerò il video così com'è con l'audio di queste cuffie Stra... Guardate Torna su, torna giù Torna su, torna giù E è la prima volta che ho delle cuffie Che mi coprono le orecchie Eh sì, ho le orecchie a sventola Tipo, sembro Freezer Che ha quelli... Come ha detto mio fratello Sembro Freezer perché Ho le orecchie giganti Infatti Freezer ha tipo delle orecchie a pannello Se non l'avete mai visto Poi per qui Qui dentro leggerete il mio nome Chi se ne frega Per Cristo Per bla 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 C'è la ricevuta di pagamento E altre robe Che vi faccio vedere dopo Per fare la patente della macchina Sì, farò la patente della macchina E bla 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 Poi mia nonna Mi arreggerà 100 euro Euri, grazie nonnina Cioè, mi le ha dati mio padre Perché mio nonno Siete semplicemente che i soldi Poi brucerò questa pospe Che è vuota La brucerò La brucerò Guardate, guardate I codici E farò clacchete Anzi Tanto scade domani Vabbè Non serve più a niente La brucerò Fa stracaldo Non sapete ho sofferto Cioè, ho riso troppo E mi è venuto anche da piangere Tanto LOL Allora, iniziamo con i miei regali Allora Questo regale è fantastico Perché Ha due funzioni Shampoo E dopo barba Cioè Faccio la doccia Shampoo E dopo Se mi serve Anche come dopo barba Shampoo Doccia Delle albolario D'uomo Agli estratti di Baobab e caffè Cioè, è fantastico Cioè Grazie ai miei amici Mattia, Michele Che mi hanno regalato Questa fantastica cosa Perché faccio lo scemo Oh, cazzo Questa tutto Poi Adesso iniziamo Con Videogiochi Perché Sanno che La mia piccola passione È videogiochi Poi mi regaleranno altre cose Il giorno È mio compleanno A scuola Probabilmente Quindi sarà Una maria di roba Allora Il mio amico Francesco Mi ha regalato Questi giochi Probabilmente ci farò Dei video Poiché Sono Tutti Si possono far video Anche questo Bene Sono tutti per playstation 3 Perché sul mio pc Non parte Cazzo Mi stanno crescendo i bambini Oh mio dio Allora Il primo è Dark Souls Che è Limited edition Non so qual è la limited edition Di Dark Souls C'è dentro un Beh Oltre al gioco Il cashmere C'è dentro anche Il Il fan art Come si dice Art book Scusate Qui ci sono Come potete vedere Disco Con tutti i suoni Tutti i suoni Le colonne sonore La musica del gioco E Come potete vedere Le raffigurazioni Dei mostricciattoli Ma aspetta Se spengo la luce Magari Si riesce a vedere Un po' meglio Tipo Cioè Cos'è Una donna pietra Zan 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 Luce O no luce No luce Togliamo la luce Non ci serve C'è già quella Che dà fastidio Va bene Mettiamo a posto Mettiamo A posto Zio Canterino Poi il secondo Dead Rising 2 Ammazziamo zombie con stile A Fortune City E Vestirò i panni di Chuck Ad ammazzare Zombie Volevo dire Con Due motoseghe Su un palo Una roba scena Va bene E Molto carino Ci farò dei video anche E poi Crysis 2 Limited Edition Come potete vedere Non avevo fatto vedere Ecco Adesso vi ho fatto vedere Vedete anche questo Infine Il regalo di mio padre Insieme a quello che Mi ha preso direttamente Il manuale Cioè Quello che è il coso E I quiz Siamo tornati In pratica I quiz E il manuale Sono naturalmente Per la patente Si E Poi Mi son tolto la maglia Nel frattempo Rispondendo al telefono Alle 10 e mezza Di sera Yeah Perché fa un caldo tremendo Non sapete che festa Atroce Cioè Atroce Nel senso buono Cioè Ho riso così tanto Che mi son messo pure a piangere Cioè Un mio amico è riuscito a fare l'imitazione Il mio fratello che ride Era identicamente perfetto Sembrava tipo un metallo Tipo così Il mio fratello ride così Tipo è stato Wow E niente Se mai I miei amici Sono venuti alla festa Vedranno questo video Li saluto Li ringrazio E abbracciate sto c***o No scherzo E grazie di tutto E Guarda come tengo le cuffie Cioè Sono Il grafano Dammi lontano E intanto rispondiamo a Whatsapp E niente Ringrazio Le persone che ci sono state Tutte le persone che mi Faranno gli auguri Di sicuro Qualcuno saprà tramite Skype Tramite questo video Tramite Facebook Che Is my best Compleanno Faccio 18 foto tutti anni E Ovviamente non è Bello leggere le lettere E Niente Spero che questo video Avesse piaciuto Ci vediamo con Credo Anche uno di questi giochi O magari Voglio tentare Di tirare Un'altra cam Su Ghost Devo pensare Spero che vi sia piaciuto Questo video Lasciate un mi piace Un commento Che ho scritto Naturalmente Auguri a me stesso E Basta Ho qualcosa A tradire Se qualcuno di voi Ha un cane in casa Fateli vedere questo video Fateli vedere la pallina Lanciate la pallina E voglio vedere se il cane Si muove verso la pallina Cioè Cercherei di prendere la pallina Attraverso lo schermo Distruggendo il vostro schermo E un computer in meno E io Dominarò il mondo Della tecnologia Che non sarà possibile Niente Per Seguitemi su Facebook Iscrivetevi al canale Mettetemi Se commentate E Google Plus Che non serve A un cazzo Praticamente è tutto Come Fine video E capelli spettinati Ciao a tutti Tu